Si parla di stress e cardiopatia. Dottor Di Berardino, c'è un collegamento abbastanza forte tra queste due problematiche? Guardi, la risposta diciamo che è abbastanza semplice, perché appartiene un po' alla tradizione popolare di attribuire al cuore una funzione molto legata alle emozioni, per cui lo stress agisce prevalentemente con reazioni emotive negative. Questo carico di emotività negativa incide sulla funzionalità del cuore e quindi può comprometterne la funzionalità, con le conseguenze che sappiamo. Noi più cerchiamo di controllare le emozioni evitandole, più ne siamo vittime. Io penso che la gente debba imparare a interagire in maniera consapevole con le emozioni. E questo significa stare più aderente a se stessi, al sentire, più che a ragionare. C'è un eccesso di razionalità in questa società tecnologica e spesso dimentichiamo il rapporto intimo con noi stessi, che è invece fondamentale per controllare le emozioni. Da un punto di vista sanitario e medico, ci sono delle terapie, delle cure, delle medicine che possono far fronte a queste problematiche? Con questa sperimentazione vogliamo dimostrare che è possibile lavorare sulla prevenzione, quindi evitare il più possibile la cronicità che spesso accompagna una terapia farmacologica, che pur essendo importante però si è accompagnata da un training in cui, come noi abbiamo fatto, aiutiamo le persone a stare meglio con se stesse, attraverso la consapevolezza. Questo può aiutare a ridurre gli effetti dello stress e quindi produrre un aiuto anche in più, perché riduce l'utilizzo del farmaco.